Osservo come molti si appassionano sul tema di un probabile scisma nella Chiesa, seguendo le parole del Cardinale Ruini e quelle che mi sembra aveva pronunciato qualche tempo fa il Segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin. Io osservo con curiosità le varie posizioni e mi sembra di poter osservare che la questione dello scisma dovrebbe essere inquadrata con un poco più di prospettiva geopolitica vaticana per renderla più comprensibile. Innanzitutto, cos'è uno scisma? È in definitiva una divisione lacerante, non una semplice differenza di opinione, ma una separazione irreparabile e insanabile. Se preso in questo senso, che mi sembra l'unico corretto, non ci sarà uno scisma in quanto esso c'è già stato, fra una parte della Chiesa che si è servita del Concilio per portare avanti un'agenda segnatamente modernista e progressista, già condannata da Piodecimo con la Pascendi, è un'altra parte, tutt'altro che omogenea, che tenta di resistere queste spinte in avanti. È ovvio che i primi sono stati molto più abili, anche perché avevano gioco più facile, facendo il gioco del mondo. Quindi c'è uno scisma, che possiamo definire come carsico, che negli ultimi anni si è intensificato anche a destra, nel cosiddetto mondo tradizionalista, che vive con sempre maggiore insonferenza la deriva modernista della Chiesa. Ora, se questo solco con il mondo tradizionalista può destare preoccupazione, ma neanche tanta in definitiva, visto che in Vaticano non si dà molto peso alla consistenza numerica di questa fazione, certo molto più preoccupante è lo scisma da sinistra, capitanato dalla potente Chiesa tedesca, potente anche economicamente. Questo è più lacerante perché sarebbe uno scisma più interno alla fazione dominante e sarebbe veramente più doloroso. Strano che la Chiesa non considere anche più doloroso lo scisma con il mondo che resiste alla sua deriva, ma questa sorta di Alzheimer spirituale che stiamo vivendo impedisce di capire che si sta rinunciando a se stessi. Insomma, esiste uno scisma già in atto e uno o più in potenza, per dirla con Aristotele. Purtroppo non c'è una soluzione semplice e io penso non ci sia proprio una soluzione immediata, visto che è impensabile pensare che si possa tornare sui propri passi facilmente dopo decenni di impennati in avanti che non accennano a placarsi. Pensate a quante vocazioni si sono manifestate in aderenza ad una malintesa Chiesa conciliare in alternativa alla Chiesa cattolica. Oggi queste vocazioni sono nelle università pontifice, nelle parrocchie, nelle curie, nelle conferenze episcopali, nelle diocesi e via dicendo. Mi rendo conto che la mia sembra una visione pessimistica, ma in realtà è sano il realismo sulla geopolitica vaticana, senza fanatismi e con la speranza che, come si dice, soltanto un Dio ci può salvare.